Prima volta a breve 1990, ora 8.28, via tagliamento 14, Franco Pizzarelli il formatore, grande Franchino, grazie a te, bella per te, ho imparato più in 8 mesi, perché tu a maggio del 91 ci hai lasciato in un modo assurdo, in 8 mesi mi hai insegnato più a te che la sciame e la pletora e il pascolo dei formatori tutta una vita, secondo te sto male, 23 anni oggi che faccio il suo mestiere, tra un minuto comincio a fare un corso, di là ci stanno Simone e Ludovica che mi aspettano, e Ludovica è mi figlia, la big and bad, e secondo te sto male, andiamo a lavorare, bella per voi ragazzi, si comincia, 23 anni dopo, 23 è il cumpleanno del presidente, 23, buccio del culo aiutami te, e Simone, è il torno di nazionale, viene da dentro, è uscito fuori dal monitor, viene fuori dal web, e questa mi sembra di conoscerla, la grande è cattiva, 23 anni dopo, proviamo a lavorare sul passaggio di testimone, il tentativo è impervio, la salita è una montagna, ma noi ci proveremo, si comincia, bella per voi, se lo siamo visti, e il formatore quando arriva? E' arrivato! E' arrivato! Mi ho la vita!